Presentiamo gli slogan uno per uno e vincerà la squadra che è riuscita a esprimere lo slogan mio. Esatto, sui servizi sanitari abbiamo detto, quindi qui il fumo non c'entra. Slogan, chi me lo commenta? E chi l'ha fatto intanto? Come ti chiami? Luigi, e tu dove vai? E Vincenzo, allora Luigi me lo commenti per favore? Quindi è stato analizzato in pratica il problema delle strutture efficienti in una società, una società che deve essere sana, per far sì che possa essere tutto, possa andare tutto per, potremmo dire con una rima per il verso giusto. E diciamolo. Dall'aspetto dell'ospedale, e abbiamo visto, ho illustrato con un piccolo segno, un uomo anziano e un bambino, ci entriamo per guarire. Entriamo per guarire, altra voce. Urla, urla, vai. Poi per quanto riguarda la scuola e il liceo Archita, anche questa è una forma. Ah, ecco, avete preso come esempio la vostra scuola. Quindi la scuola è lo specchio di una società sana. Infine anche un elemento dello sport, un campo di calcio e salute. E quindi anche siamo rappresentanti di una scuola, di un liceo classico, e pertanto mi è parso fortuna così commentare questo... Non finisce più, sono disperata! Questo slogan... Uomini del 2000, lei... Quindi mens sana in corpore sano, mente sana in corpo sano, homines sani in societatibus sanis, quindi uomini sani in societatibus sanis. È un professore! È un professore che era una conferenza fuori da Reteulata, però è il quarto nome. Laurea onoris causa!